Vi starete certamente chiedendo cosa ci faccio io con un pezzo di legno, con un palo in mano. In realtà dire palo forse è un po' dissacrante, anche perché questo non è un palo, è uno strumento musicale. Si chiama digeridoo, è uno strumento aborigeno, viene dal nord dell'Australia. Noi però in questo momento con l'Australia non c'entriamo niente, siamo a Gerenzano in provincia di Varese e questo strumento, questo pezzo di legno è uno strumento che suona questo ragazzo che ho qui di fianco a me, che si chiama Achille Zoni. Ci fai sentire innanzitutto come suona? Grazie a tutti. Ci spieghi un po' questo strumento, come è fatto, come funziona? Sì, dunque, allora prima di tutto lo strumento di per sé è uno strumento aerofono, quindi produce un suono tramite la vibrazione dell'aria. Sostanzialmente è un tubo di legno, di legno perché il materiale tradizionale con cui è sempre stato costruito è il legno per forza di cose, perché gli aborigeni trovavano in natura soltanto il legno a disposizione. Noi occidentali, nel momento in cui si è iniziato ad assimilarlo, abbiamo utilizzato quelle tecniche che usavamo su altri strumenti musicali del nostro passato, quindi ce ne sono anche in metallo, in ottone, oppure molto spesso in plastica o in vetroresina. Detto questo, bisogna anche considerare che, dato che ogni tubo suona, se è suonato in un certo modo, qualsiasi materiale, va bene, anche un tubo di gomma suona. Ma questo, praticamente mi spiegavi, è un pezzo di faggio, di frassino, che tu hai scavato. Sì, allora, ecco, questo è subito necessario fare un distinguo immediatamente, perché se si parla di geridù tradizionali australiani costruiti da aborigeni, si parla anche di una tecnica costruttiva completamente diversa da quella che ho usato io. Nel senso che gli aborigeni non costruiscono lo strumento e in un certo senso lo raccolgono, dato che prendono tronchi di eucalipto già scavati da termiti, che ne mangiano la parte tenera interna, e li lasciano quindi cavi. L'aborigeno taglia questo tronco, lo pulisce, lo raffina, lo decora, con delle decorazioni oltretutto stupende, e poi lo usa come strumento musicale. Io e tutti quelli che ne costruiscono, che non hanno ovviamente colonie di termiti a disposizione, Si usa una tecnica molto semplice, si prende il tronco, il legno, lo si taglia in senso longitudinale, e poi a forza di scalpello e di sgorbia lo si svuota manualmente fino a fare un tubo, poi lo si rincolla sostanzialmente. Di per sé le operazioni sono semplici, bisogna farle con una certa attenzione, perché è molto... bisogna stare attenti ai dettagli. E mi spiegavi anche che è difficile da suonare, perché per mantenere, se ho capito bene, questo suono continuo, devi imparare una tecnica di respirazione particolare. Esatto, è una tecnica di respirazione che non è assolutamente propria solo di questo strumento, si chiama respirazione circolare. Se si vuole andare a vedere in strumenti a noi più vicini, si pensa alle Leonidas in Sardegna, che sono anche questi degli strumenti a fiato, diversi ovviamente dal digeridù, che però utilizzano la respirazione circolare. Che come tecnica di respirazione consiste nel utilizzare la camera costituita dalle guance, quindi da tutta la cavità orale, come riserva d'aria alternativa a quella dei polmoni. In che senso? Nel momento in cui io sto espirando all'interno dello strumento, mi trovo a un certo punto ad avere una necessità di prendere nuovo fiato. In questo momento io gonfio le guance, in questo modo, e mentre spruzzo fuori, nel vero senso della parola, l'aria dalle guance... Perché la suoni come la tromba, vero? Sì, perché la vibrazione, si usa una vibrazione delle labbra esattamente come per quella della tromba, solo ad una frequenza più bassa. Mentre io spruzzo fuori l'aria dalle guance, ne inspiro dal naso in un tempo che va da mezzo secondo, un secondo e mezzo, secondo di quant'aria voglio prendere, incamerare. Questo mi permette di avere un suono che non si interrompe mai, pur continuando a prendere fiato, quindi senza mai aver necessità di interrompermi. Ovviamente anche qui ci sono delle differenze per quanto riguarda lo stile che usano gli aborigeni da secoli, anzi da millenni nel suonare il digeridù, e quindi anche la tecnica che loro usano nella respirazione è la nostra. Ovviamente si basa sullo stesso concetto, però ci sono dei distingui da fare anche su questo, insomma. E' sempre molto importante, credo, operare delle distinzioni fra le due culture, fra la nostra che si sta approcciando soltanto negli ultimi vent'anni al digeridù, e la loro che invece è antica di millenni. E tu come l'hai scoperto? Io l'ho scoperto per caso, la prima volta che ho visto un digeridù ero a Praga, sul Ponte Carlo, ho trovato questo ragazzo che stava suonando questo strumento stranissimo, che non avevo mai visto prima, e sono rimasto molto colpito dal fatto che non prendeva fiato dalla respirazione circolare. Poi pian piano mi sono documentato per i fatti miei, e a un certo punto ho iniziato a pensare che forse potevo iniziare a suonarlo. E da quanto lo suoni? Da un anno e mezzo, attualmente. So che tu suoni anche la batteria, ma in un gruppo di ragazzi, in un gruppo musicale, ma lo suoni solo tu per diletto tuo, o lo hai introdotto anche come strumento del gruppo, della band? Allora, è un argomento molto interessante, perché chiama in causa anche altre cose. Io suono la batteria da dieci anni, quindi mi sono approcciato al digeridù con l'idea di accostarlo a quello che già facevo. Poi ho notato che come strumento è molto ricco di possibilità, e quindi ho iniziato a vederlo in un modo più isolato dalla batteria. Lo suono anche in contesti come quelli in cui inserivo la batteria precedentemente, però ho anche trovato che è molto molto interessante creare dei contesti appositi. Oltretutto il digeridù, essendo uno strumento fondamentalmente ritmico e non melodico, perché fa una sola nota, fa la nota base, e basta, è molto difficile da inserire in contesti armonici come quelli di insiemi complessi musicali a cui noi siamo abituati dare ascolto. È molto più semplice da inserire piuttosto con percussioni. Oppure nel momento in cui, non è vietato ovviamente, non è impossibile, nel momento in cui si utilizzano strumenti armonici come classici, chitarra, pianoforte, eccetera, bisogna assolutamente che questi strumenti stiano molto molto attenti a quello che sta facendo il digeridù. Cioè il digeridù, secondo me, deve diventare in questi casi un fulcro all'interno della formazione, perché se no è una stonatura, se no non può esserci coesione né avvicinamento fra le due parti, perché si tratta proprio di due tipi di creazioni musicali differenti, ecco. Posso supporre che nel nostro paese siete in pochi a suonare questo tipo di strumento? Sì, io non so quantificare perché molti di quelli che lo suonano, penso magari anche come ho iniziato io, lo fanno più che altro per una passione propria, anche amatorialmente. In realtà non siamo così pochi. Appunto io ho detto che è un interesse che si è sviluppato negli ultimi vent'anni e adesso ci sono comunque diversi raduni in Italia e anche all'estero in generale, dedicati al digeridù. Raduni più o meno informali, a seconda delle necessità di chi lo vuole organizzare, appunto. Io trovo per gusto mio, sempre che sia molto più bello, un raduno di tipo informale con poche persone e che si scambiano conoscenze e pareri, piuttosto che un grande ritrovamento di musicisti. Questo lo penso perché il rapporto che io ho con questo strumento è molto intimo, quindi questo è un parere mio. In generale il numero dei musicisti comunque lo vedo crescere sempre di più. Secondo me, di musicisti all'attivo che io conosco o di cui ho potuto ascoltare, in Italia io parlerei nell'ordine delle centinaia ancora, ovviamente. Però di persone a cui sono interessate, che provano a suonarlo, crescono, vedo che crescono continuamente. E comunque quando lo suoni in giro noti che c'è un certo interesse, se non altro che per curiosità. Assolutamente, penso esattamente come io sono stato interessato appena l'ho visto, dalle caratteristiche che aveva di totale stranità da quello che ho sempre sentito negli strumenti musicali. Penso così, le stesse altre persone che si approcciano in quel modo a uno strumento che non hanno mai visto troveranno la stessa curiosità, quindi è un po' una reazione a catena in questo senso. Poi bisogna sempre considerare che c'è chi trova questo suono orribile. Questa è una questione di gusti, sostanzialmente. Trovi una certa affinità con il corno svizzero? Sinceramente no, nel senso che sì, come struttura, come impostazione dello strumento c'è un'affinità. Va detto poi che per corno svizzero, corno svizzero non identifica di per sé uno strumento in particolare, è un po' un'idea generale di corno, lungo, da suono molto profondo e penetrante. In realtà comunque il suono del corno svizzero è molto più acido, più acuto anche rispetto a quello del digeridù ed è molto più limitato per quanto riguarda le possibilità ritmiche e le possibilità di inserimento in altri contesti che non siano quello solistico rispetto al digeridù. Si suona nello stesso modo, nel senso che si produce sempre una vibrazione, ma per esempio nel corno svizzero non si usa la respirazione circolare, perché non ce n'è necessità sostanzialmente, perché il patrimonio musicale e il repertorio del corno svizzero non è come quello del digeridù e non c'è bisogno di respirazione circolare. Bene, allora intanto che Achille ci fa sentire un ultimo pezzettino, un'ultima performance, noi vi salutiamo, vi stupiremo ancora con altri servizi come questi, continuate a seguirci. Grazie a tutti! Grazie a tutti!